Grandissima cucata di Michael, creo che si chiama così, Michael Strada, che hizo tutto un dribbling fantastico quando faltavano praticamente pocos minuti al final del partito. Ecco, ecuador già con questo test, già riapre, già va a aprire nuovamente esperanza di poter camminare in una buona possibilità, probabilità di calificazione, che ovviamente ancora il cammino sta lungo. Cabe di dire che il partito, per quelli che dicono che l'Ecuador sarà 3-0, 5-0, 20-0, 1.000.000 a zero, allora, tanto per dire una cosita, Paraguay tiene un coefficiente tecnico in termini storici che è superiore a quello dell'Ecuador, e io non sono il primo che lo dice, ma le dicono le dimenticate di tutto quello che, effettivamente, Paraguay tiene rispetto all'Ecuador. E, cabe dire, anche, che non è che sempre ha ganato Ecuador a Paraguay, per nulla, in molte volte Paraguay le ha ganato all'Ecuador, e, secondo una statistica, per lo che io ho visto, storica, il massimo ganatore di queste due elezioni, o sia, chi è che ha ganato più partito ha stato Paraguay. Dice questo, quando vamos a cerrar questa polemica, cabe dire che il partito si ha visto in momenti in cui Paraguay dejava più il cuore a Ecuador, e in altre occasioni si ha visto come a mancia del leopardo e Paraguay, a l'ora di poner una marcia più accelerata, Ecuador non poteva fare nulla, poi si ha visto una extrema grande defensa per parte di Paraguay, che ha lograto, praticamente, poter amortizzare tutte le tirate di intenti di gol, perché Ecuador aveva moltissime occasioni di gol, si si com'ero non so quanti gol, anche Paraguay in alcuni momenti ha fatto alcuni attacchi, però, per lo che ho visto, mi sembra che Paraguay non aveva intenzione di ganare il partito, prevalentemente, voleva dare più il cuore al suo rival e preoccuparsi più di la defensa. De hecho, non a caso, in quasi 90 minuti, ecuador non poteva annodare il gol, poi proprio quando siamo cerca del finale llega il primo gol, in un pass abbastanza angolato, dove Caicedo, se non mi equivoco, mette il primo gol, poi Paraguay, che sembra che va, chissà, a intenzione di empattare, però, poi, perde otra volta la pelota e, poi, allì sta una fantastica, allì, che, praticamente, dribbla, passa, disvia e llega, praticamente, angolato e, allì, il portero, praticamente, perché, praticamente, intelligentemente dice, io, invece di incamminarmi nella parte central, dove allì sta più traffico, io mi encamino lateralmente, poi, proprio nella parte più angolata della porteria e, allì, poi, con una grande, di verdad, un grande tocco magistral, la pone proprio e, nel medio della spierna del portero entra il secondo gol, che, allì, praticamente, già non hai más possibilità, quanto riguarda Paraguay. Ovviamente, il camino, come già lo dice in otras ocasiones, della eliminatoria è molto lungo, per lo tanto, hanno bisogno di tenere e seguire tenendo i piedi a terra, perché il camino è lungo, i partiti sono ancora moltissimi, ci sono partiti di volta e, poi, ci sono molti, molti competitori e, come già ho detto, ci sono solo cinque e ci sono molti mostri candidati, però, già con questo test, che già si avessi avessi avuto con un empattamento, per me, già era una buona segnale, però, per ottenere 2 a 0, questo gli dà punti che è molto interessante a Ecuador, che lo pone già in una situazione molto interessante, però, volvo a repetire, il cammino è molto lungo. E, nada, partito interessante, bonito, molto battagliato, si hanno visto buona giocata per ambas parti, in termini di dribbling, e, anche, ho visto, è stata una giocata, non mi ricordo in che minuto, è stata una giocata hermosissima per quanto riguarda Ecuador, che, per poco, non la metto dentro, ma, la strategia, se viò un esquema di gioco nel quale ha fatto un passe aereo, poi questo si è incontrato più centrale e lì lui ha fatto nuovamente il lancio aereo per che questo lo andasse e metterlo dentro, era molto intelligente, molto buona la giocata e davvero mi sorprende perché queste sono giocati che facono generalmente Brasile e Argentina come mi ricordo in termini di schema, poi ovviamente è chiaro l'entrenatore di Ecuador è argentino per lo tanto sta su huella, se le nota, però è molto buona questa idea che io avevo visto non mi ricordo in che minuto però mi impressionò moltissimo e non so voi che pensate, lo vedo ovviamente, già più tardi sarà l'altro partito molto interessante e poi vi commentate, lo vedo più tardi, ciao alla prossima